bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo youtube kids allora la prima cosa da fare è andare su google quindi apriamo la pagina eccola qua poi clicchiamo su youtube kids ora scegliamo il primo che appare ecco qua guarda ora guarda sul web mettiamo schermo intero raga lo sto vedendo insieme a voi chiede a un genitore di impostare youtube kids ok sono un genitore ti diamo un benvenuto prima di lasciare che tuo figlio esplori il mondo di youtube kids dedica un paio di minuti per configurare le impostazioni per la sicurezza di controllo genitori avanti inserisci il tuo anno di nascita mettiamo mail e 991 invia ora puoi accedere e creare un profilo per tuo figlio se effettui l'accesso avrai a disposizione più controlli sia che tu voglia autorizzare molti video o scegliere quelli che preferisci puoi anche bloccare i video e i canali che non ti piacciono la prossima volta che effettuerai l'accesso sul dispositivo il profilo di tuo figlio sarà pronto accedi con un account genitore e possiamo iniziare ok dopo questa introduzione andiamo avanti accedi con un account genitore e accediamo e ok ora controllo il telefono ok abbiamo infatturato l'accesso andiamo giù ciao drk di nuovo next ok c'è crea un profilo cercheremo di personalizzare youtube kids in base all'età di tuo figlio solo tu e tuo figlio potete vedere queste informazioni ok vabbè io non ho un figlio quindi metto nome a caso avanti facciamo più grandi va seleziona seleziona la ricerca vabbè la attiviamo dai almeno quello profilo creato ok ok no vabbè questo l'ho già fatto avanti guida alla funzionalità per i genitori blocca e segnala video dal menu cioè praticamente è solo per bambini inizia no vabbè però è carino dai ora vediamo un po' come funziona ok impara programmi anche musica giochi anche ok ma non è male dai cerca vediamo esco io no non esisto no solo per bambini inserisci la risposta corretta 8 per 4 32 ok quindi raga tutto qui è questo youtube kids c'è favg beh ragazzi abbiamo visto insieme youtube kids alla prossima mi raccomando lasciate un like e iscrivervi al canale alla prossima bella raga vedete tutto questo è olio oi oi